Il messaggio che dobbiamo lanciare a partire dal territorio di Comiso per estenderlo in tutta la provincia di Ragusa è quello di rafforzare la viabilità in ragione dell'aeroporto. Quindi io mi rendo perfettamente conto che la dismissione di queste due bretelle che in realtà non vengono usate potrebbe essere anche funzionale a un arrazio delle ferrovie dello Stato. Ma è il messaggio sbagliato secondo me che si dà all'opinione pubblica. E siccome non credo che succeda l'apocalisse se queste bretelle non si toccano io suggerirei nell'emore che apprendiamo quale sia il senso e il valore dello sviluppo delle strade ferrate in ragione dell'aeroporto in provincia di Ragusa io direi che sarebbe il caso, come ho già detto più volte in modo anche perentorio di non toccare alcunché qui alla stazione del comune di Comis.